Buonasera, bentrovati. Ve lo dico subito. Nex Spenek Metu, senza speranza e senza paura, ma forse si è aperto uno spiraglio per la tregua a Gaza. Si è saputo nel tardo pomeriggio di oggi, in maniera informale, perché da fonti dell'amministrazione Biden è trapelato che Israele avrebbe accettato più o meno, è stato detto letteralmente così, un accordo sul cessato il fuoco di sei settimane nella striscia di Gaza. Da qui naturalmente partiremo tra poco con il telegiornale, visto che è la notizia più importante di politica estera e è importante anche perché domani, nei prossimi giorni, ripartiranno quei colloqui al Cairo tra le parti per cercare di trovare un accordo duraturo. Dunque cercheremo di capire nel giornale quanto questa notizia di oggi sia viatico per una possibile sospirata tregua per la guerra a Gaza. Di Medio Oriente si è parlato anche nell'incontro che c'è stato, che si è concluso un paio di ore fa tra la Presidente del Consiglio Meloni e il Premier canadese Trudeau e sentiremo dalla nostra inviata quali sono anche gli altri temi sul tappeto, Alessandra Sardoni che ha seguito il viaggio della Presidente del Consiglio Meloni prima nell'incontro alla Casa Bianca e poi in Canada. Parleremo anche e ancora della questione di Medio Oriente perché oggi ci sono state molte manifestazioni in Italia, a Roma, a Milano ma anche a Pisa e a Firenze in solidarietà con il popolo palestinese. Ma non solo, come sapete una settimana fa proprio a Pisa ci sono stati degli episodi di scontri con le forze dell'ordine e gli studenti che hanno fatto molto discutere, manganellate molto pesanti contro gli studenti anche medi, quindi anche minorenni. Proprio per questo molti sono tornati a sfilare a Pisa e sentiremo dal nostro inviato Simone Costa come è andata invece questa volta, se ci sono stati disordini o meno. Poi torneremo su una questione politica che sta facendo discutere molto, in realtà si tratta di notizia di giudiziaria ma sta emergendo da un'indagine della Procura di Genova che molti politici rappresentanti anche del governo, ministri Crosetto, Pichetto Fratin, Urso, sarebbero, anzi è il caso di usare il condizionale, stati spiati da un finanziere quando era all'interno della Procura nazionale antimafia, su questo si sta indagando, peraltro sarebbero stati spiati anche personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo, cercheremo di capire che cosa significa questo e per quale motivo naturalmente tutto questo è stato compiuto. Torneremo poi sulla guerra in Ucraina per sapere le ultime notizie, anche per sapere come sono andate le elezioni in Iran, di cui peraltro si sa soltanto la partecipazione, l'affluenza, ma già quel dato è molto significativo e vedremo perché e poi torneremo su una storia e vi racconteremo una storia di cronaca piuttosto scioccante perché un uomo di 50 anni di origine russa nell'Astigiano è stato ucciso, accoltellate dalla figlia appena a 19enne e cercheremo di capire quali sono i retroscena drammatici che si nascondono dietro questo parricidio. Vi aspetto intanto tra meno di un minuto per i titoli. Secondo fonti degli Stati Uniti, Israele avrebbe più o meno accettato l'accordo per una tregua di sei settimane a Gaza chiedendo però di conoscere quanti sarebbero gli ostaggi ancora vivi nella mani di Hamas. La palla ora dunque passa ad Hamas, intanto i primi aiuti umanitari dagli aerei statunitensi che hanno lanciato pasti come anche velivoli egiziani e giordani sono arrivati. C'è stato però un nuovo ride di Tel Aviv a Rafal, almeno dieci morti meloni dopo Biden intanto in Canada, da Trudeau spinte per fermare l'escalation. Ad una settimana dalle violenze della polizia a Pisa, Firenze e molte città italiane e giovani tornano a manifestare per la Palestina, stavolta senza tensioni. A Pisa nessuna gente indivisa ma solo funzionari in borghese a scortare circa 5.000 manifestanti pacifici. Nessun problema neanche a Firenze dove si sono radunati studenti e attivisti dei centri sociali. Cenati intanto si dimette dalla presidenza dell'Ampi di Milano. A Gaza dice non è genocidio e non si può affermarlo. A Roma il congresso dei socialisti europei designa Nicola Schmidt come avversario di Ursula von der Leyen alla guida della Commissione europea per le prossime elezioni di giugno europee. La segretaria del PD a Lischlein ha spronato agli alleati socialisti. Esiste un'alternativa alla destra, dice Forte del risultato in Sardegna. Ma nell'isola però c'è l'ombra del riconteggio delle schede perché Todd e Truzzo sarebbero infatti separati soltanto da un migliaio di voti. Sarà in Italia entro due mesi dopo 24 anni passati nel carcere di massima sicurezza di Miami Kikko Forti, l'imprenditore trentino, condannato all'ergastolo per omicidio negli Stati Uniti. Ieri c'è stato l'annuncio del suo ritorno che è stato dato dalla Premier Meloni. Prima del vertice con il presidente americano Joe Biden. Mi avete salvato la vita, ha detto Forti dopo aver appreso la notizia. Oltre 800 accessi abusivi a banche dati è quanto contesta la procura di Perugia nell'inchiesta su presunte attività simili al dossieraggio al finanziere Pasquale Striano. Tra i nomi degli spiati ci sono diversi esponenti politici, da Lolo Brigida a Crosetto, a Marta Fascina, a Renzi, a Conte, anche la sua compagna, ma anche Fedez e Cristiano Ronaldo. Le indagini in corso dovranno chiarire per quali ragioni il tenente delle Fiamme Gialle, Pasquale Striano, appunto avrebbe interrogato l'archivio su questi nomi. Buonasera, ben trovati. Allora, il Medio Oriente è ancora in primissimo piano da due punti di vista. Da una parte perché, lo vedremo tra poco nel servizio, ci sono stati purtroppo nuovi bombardamenti sulla striscia, in particolare nel sud, nella città di Rafa, dove hanno trovato rifugio oltre un milione e mezzo di palestinesi sfollati dal resto della striscia. Ci sono oltre dieci morti nel campo profughi, nel campo delle tende per un bombardamento, un raid israeliano, ma soprattutto perché le trattative diplomatiche sembrano essere arrivate a un punto importante. Dall'amministrazione Biden, da fonti interne, è stato fatto trapelare che Tel Aviv, Israele, sarebbe disponibile a una tregua, una tregua di sei settimane che potrebbe partire già da questa sera. Naturalmente dagli Stati Uniti è stato sottolineato che a questo punto la palla, come si dice, passa ad Hamas. Sentiamo. Gli israeliani hanno più o meno accettato un cessato il fuoco di sei settimane che potrebbe iniziare oggi se Hamas ha consentito a rilasciare gli ostaggi vulnerabili. E' quanto ha riferito un funzionario americano, secondo cui l'accordo per una tregua è sul tavolo e ora la palla è nel campo di Hamas. E' questa la vigilia della riapertura dei negoziati al Cairo, dove arriverà una delegazione di Hamas, mentre Israele ha rinviato la partenza dei suoi emissari, dichiarando di voler sapere quanti ostaggi sono ancora vivi, richiesta già respinta dall'organizzazione. Intanto il primo lancio di aiuti da aerei militari statunitensi è caduto su Gaza questo pomeriggio. 38.000 pasti, una goccia nel mare. L'amministrazione di Washington ammette che i voli non possono sostituire la distribuzione di assistenza via terra nella striscia. Oggi un raid aereo ha bersagliato Raffa, dove sono morti almeno 10 palestinesi, in una Gaza ancora sotto shock per la strage di mercoledì, quando più di un centinaio di persone sono rimaste uccise, mentre affamate cercavano di rifornirsi dai camion di cibo. Una strage su cui ancora si sta cercando di fare luce. Testimonianze dell'ONU e dei medici degli ospedali di Gaza raccontano che la maggior parte dei pazienti riporta ferite d'arma da fuoco usate dall'esercito israeliano, il quale continua a sostenere invece la sua versione, ovvero che la maggior parte delle vittime sia stata causata dalla calca impazzita e dai camion. Anche le condanne continuano. Da ultima quella del capo della diplomazia europea, la responsabilità dell'ultima tragedia a Gaza è da attribuire alle restrizioni imposte dall'esercito israeliano e agli ostacoli da parte degli estremisti violenti alla fornitura di aiuti umanitari, ha dichiarato Borrell. Israele, da parte sua, sostiene che l'intenso traffico aereo dedicato agli aiuti interferisce con le operazioni militari sopra Gaza, oltre a quelli americani. Infatti oggi ci sono stati lanci egiziani e giordani. Intanto in Israele 15.000 persone si sono unite alla marcia per la liberazione degli ostaggi, partita quattro giorni fa dal kibbutz Reim verso Gerusalemme. Anche il leader dell'opposizione israeliana, Yair Lapid, ha deciso di partecipare. Ci chiedete se stiamo facendo abbastanza per riportare gli ostaggi a casa? La risposta è no, ha affermato. Se lo stessimo facendo, sarebbero già tornando a casa. Anche perché non bisogna dimenticare che la distribuzione degli aiuti è stata bloccata da parte delle Nazioni Unite, quindi la responsabilità politica, al di là di come siano andati i fatti, era in questo caso, nel caso della strage della farina, così è stato ribattezzato politicamente, ed Israele che doveva appunto distribuire nella maniera corretta, al di là di come siano naturalmente andate le cose, che come sempre è complicato decifrare, visto che non c'è nessun giornalista, peraltro internazionale, all'interno della striscia. Legato a quanto sta accadendo in Medio Oriente, è accaduto un episodio che ci chiama in causa in prima persona, chiama in causa in prima persona l'Italia, perché proprio in base al principio di autodifesa, una nave italiana, la nave Duilio, ha abbattuto un drone nel pomeriggio di oggi nel Mar Rosso. La nave era in missione per la protezione dei traffici commerciali, proprio in seguito agli attacchi degli uti delle ultime settimane. Il drone, è stato detto dal comunicato del Ministero della Difesa, dalle caratteristiche simili a quelli già usati in precedenti attentati, si trovava a circa 6 chilometri dalla nave italiana. Vi dicevo che legata alla questione medio orientale sono anche le manifestazioni che si sono tenute oggi in tutta Italia, Roma, Milano, Firenze e Pisa, in solidarietà con quanto sta avvenendo nella striscia di Gaza, ma anche per ribadire la contrarietà a quanto invece è accaduto una settimana fa a Pisa, gli scontri tra le forze di polizia con tanto di manganellate nei confronti degli studenti medi e delle superiori che stavano marciando e manifestando proprio in solidarietà alla Palestina. Oggi si è tornati in piazza, sentiamo il nostro inviato, Simone Cossa, com'è andata? Nei cariche, nei manganelli, ma canti e balli. Ad una settimana dalle violenze di Pisa e Firenze, i giovani si riprendono le piazze toscane e lo fanno alla loro maniera. Col volto scoperto, il sorriso, gli slogan di protesta a favore della Palestina e contro quella che chiamano una strategia della repressione. A Pisa, lunedì 23 febbraio, un gruppo di giovani, fra loro, molti minorenni, erano stati respinti a poca distanza dalla scuola normale. Almeno 10 feriti tra i manifestanti. Oggi la stessa piazza è la destinazione finale di un corteo molto partecipato che si snoda per le strade del centro cittadino e sono studenti minorenni ad aprire il corteo al fianco di studenti superiori universitari. Ci sono i loro genitori, ma anche sindacalisti di base ultra della curva dello stadio in piazza per solidarietà agli studenti. Noi siamo soltanto dei ragazzi e delle ragazze che hanno deciso di alzare la testa dei nostri telefoni che intanto ci riecliminate di aver sempre incollate alla mano e incollati al viso. Abbiamo deciso di alzare la testa e guardarci intorno e come ha detto qua il mio compagno ci siamo accorti di quello che sta succedendo e speriamo che il mondo se ne accorga con noi. Questi ragazzi sono il nostro futuro. Non li dobbiamo chiudere, li dobbiamo fare aprire. È importante per noi che ne abbiamo accennato essere liberi. È un articolo della Costituzione, la libertà. Quello che è successo è veramente indescrivibile. Quello che ha fatto la polizia a noi giovani e anche a minorenni. Anche per questo siamo oggi qui a protestare noi giovani. Alla vigilia aleggiavano timori per il rischio di infiltrati e nuovi scontri. Ma oggi a Pisa solo le voci dei ragazzi. Lungo il percorso di agenti in divisa, oggi nemmeno l'ombra, i funzionari in borghese seguono con discrezione lo snodarsi del corteo con almeno 5.000 persone ordinate tra i negozi del corso centrale senza intoppi e soprattutto senza incidenti. Lo stesso accade qualche ora dopo a Firenze. Anche qui il 23 febbraio un gruppo di manifestanti era stato respinto con manganellate cariche di alleggerimento nei pressi del Consolato statunitense. Questa sera studenti attivisti dei centri sociali si sono dati appuntamento a pochi metri dalla bandiera americana. Ma tra di loro e il Consolato ci sono barriere protettive e transenne che impediscono qualsiasi possibilità di spostamento sul lungarno. Per questo dopo aver gridato Palestina Libera sotto le finestre del Consolato il corteo volge le spalle alle camionette della polizia e si sposta nel centro di Firenze. Anche qui canti e grida, ma nessuna tensione. E qui a Firenze come a Pisa proseguono le inchieste delle due procure per fare luce su quanto accaduto e il Dipartimento di Pubblica Sicurezza ha annunciato che tutti gli agenti che hanno partecipato alle due manifestazioni del 23 febbraio hanno contribuito alla loro stessa identificazione. A proposito degli Stati Uniti di cui parlava nel servizio Simone Costa naturalmente le cancellerie di tutto il mondo e quindi anche quella degli Stati Uniti si stanno occupando da mesi della questione medio orientale. Proprio poco fa il Presidente degli Stati Uniti Biden ha scritto sui social che gli aiuti che arrivano a Gaza non sono nemmeno lontanamente sufficienti e continueremo a fare ogni sforzo possibile per aumentare la quantità di aiuti da destinare alla popolazione palestinese di Gaza. Di questo ha parlato ieri il Presidente degli Stati Uniti anche con la Presidente del Consiglio Meloni che oggi si è spostata e si trova in Canada a parlare con il Premier canadese Trudeau e gli argomenti sul tavolo naturalmente sono sempre gli stessi. Come ci racconta Alessandra Sardoni, buonasera. Medio Oriente è sempre in prima posizione. Alessandra. Buonasera, naturalmente c'è stato il colloquio è finito da un tre quarti d'ora diciamo ed è in corso il pranzo di lavoro in questo momento qui all'hotel Fairmont si svolge in un hotel questo incontro a Toronto e naturalmente Gaza resta uno dei temi anche perché il colloquio con il Premier Ministro canadese Giorgia Meloni è sempre nelle vesti di Presidente del G7 questo lo sottolineiamo è in grande continuità con il colloquio di ieri alla Casa Bianca con Biden quindi sono stati toccati gli stessi punti con l'idea di intensificare appunto i tentativi per il cessato e fuoco il tema degli aiuti e la posizione italiana è quella espressa ieri cioè comunque l'obiettivo due popoli, due stati come ha detto Giorgia Meloni ieri appunto con Biden e così anche con Trudeau naturalmente ci sono anche molti temi che riguardano rapporti anche commerciali con il Canada c'è un grande interscambio c'è anche una grandissima vasta comunità italiana e oggi ci sarà anche un incontro con questa comunità italiana in serata nella serata qui ma l'attesa è tutta per una conferenza stampa che è stata rinviata anche con qualche polemica perché la Presidente del Consiglio comunque non parla con la stampa da diversi giorni ha fatto soltanto un'intervista ha rilasciato dopo la sconfitta in Sardegna ci sono temi politici molto forti italiani e quindi oltre alla prospettiva internazionale quindi al programma del G7 c'è naturalmente molta curiosità e appunto aspettativa rispetto a questa conferenza stampa che dovrebbe cominciare in ritardo ma insomma ancora nella notte italiana intorno alle 9 e mezza 10 c'è stato un ulteriore ritardo per quanto riguarda invece i temi da G7 Giorgia Meloni li ha presentati a Trudeau e naturalmente restano ha detto che vuole tra l'altro che si raggiungano anche pochi obiettivi ma concreti un richiamo alla concretezza naturalmente ci sono i temi di internazionali come appunto Medio Oriente e l'Ucraina e a questo proposito c'è da dire che ci hanno detto fonti diplomatiche che comunque anche Trudeau farà pressione come ieri Biden perché è sulla stessa linea americana per l'utilizzo dei fondi russi congelati nelle banche europee a favore dell'Ucraina con le cautele del caso ma questo si chiede che sia argomento del G7 quindi questa proposizione di Biden sarà sicuramente appunto anche è stato anche ripetuto anche da Trudeau vi aggiorneremo nelle prossime edizioni ti restituisco la linea Francesca se non ci sono altre domande No, grazie Alessandra naturalmente nelle prossime edizioni soprattutto sarà importante seguire come diceva Alessandra Sardoni le dichiarazioni diciamo più relativamente alla politica interna della Presidente del Consiglio Veloni sui temi a cui abbiamo accennato compreso anche il tema della frizione tra mille virgolette con il Quirinale e con Mattarella volevo soltanto dirvi un brevissimo aggiornamento che nel frattempo a proposito di Biden e di Stati Uniti è stato comunicato che sarà la Vice Presidente americana Kamala Harris a incontrare a Washington il Ministro della Guerra israeliano Benny Gantz l'ho detto poco fa la CNN questo viaggio di Gantz è molto importante perché in realtà sta avvenendo lo spostamento di un Ministro del Gabinetto di Netanyahu negli Stati Uniti senza l'approvazione del Primo Ministro israeliano sintomo di una frizione interna al governo israeliano molto forte dunque vedremo che cosa succederà nelle prossime ore ma torniamo in Italia dove si è svolto a Roma il congresso del Partito Socialista Europeo con i maggiori leader della sinistra europea per l'Italia naturalmente c'era Elie Schlein ma erano presenti quasi tutti i leader europei è stato mandato un messaggio di timore anche diciamo di tentativo di frenata rispetto alle derive di una certa destra europea sbarrare la strada all'avanzata delle destre ricomponendo l'unità delle forze europeiste un obiettivo a portata di mano per la segretaria del PD Elie Schlein che guarda le elezioni europee di giugno ma non scioglie ancora la riserva legata alla sua possibile candidatura da capolista la leader Demma ha accolto oggi a Roma i leader socialisti riuniti a congresso dal quale è uscita l'incoronazione di Nicholas Smith come candidato unico alla presidenza della commissione UE sarà lui a contenderne la guida alla presidente popolare uscente Ursula von der Leyen e proprio dal congresso di Roma che si è concluso nel pomeriggio sulle note di Bella Ciao Schlein rivolge un appello agli amici del PPE a non aprire le porte al partito dei conservatori guidato da Giorgia Meloni Salvini e Meloni hanno portato in Italia gli amici di Putin gli estremisti e nazionalisti a ringa la leader Demma dal palco della nuvola di Fuxas e sprona i leader socialisti in sala a lavorare insieme per riaffermare scandisce i valori comuni noi insieme ci battiamo per aumentare i salari loro sono quelli che bloccano il salario minimo noi ci battiamo contro il lavoro precario e loro sono quelli che l'aumentano noi ci battiamo per la sanità pubblica mentre loro la smantellano l'obiettivo di Schlein appare anche quello di polarizzare la campagna per le europee fra europeisti e non la segretaria e i leader socialisti dallo spagnolo Sanchez al tedesco Scholz arrivano al congresso forti della vittoria alle regionali sarde per tutti è la dimostrazione che la destra si può battere sul voto che ha consegnato la presidenza dell'isola da Alessandra Todd e sostenuta da PD e Movimento 5 Stelle arriva però all'ombra del riconteggio delle schede su cui medita Fratelli d'Italia il partito della Premier e principale sponsor dello sconfitto Paolo Truzzo dopo il voto in Sardegna la destra non si sente più tranquilla il ragionamento che fa Schlein convinta che la vittoria nell'isola possa dare il via a un effetto domino virtuoso per il centrosinistra tale da portare alla vittoria in Abruzzo il prossimo weekend e infine a quella a Bruxelles il cambiamento è possibile lo abbiamo già dimostrato in Europa lo dimostreremo il 9 giugno grazie a Schmidt nel campo largo restano però le distanze tra alleati sul sostegno a Kiev continueremo a sostenere l'Ucraina con ogni mezzo necessario ma questo non comprende l'invio di truppe di terra puntualizza Schlein infine la guerra a Gaza con la convinzione espressa da Schlein e condivisa da Sanchez in un colloquio a margine che occorra fare di più per il cessate il fuoco immediato proprio durante il viaggio alla Casa Bianca la visita alla Casa Bianca di cui parlavamo prima di Giorgia Meloni è stato annunciato il ritorno in Italia di Chico Forti che è detenuto negli Stati Uniti da oltre 20 anni vediamo quando si concretizzerà secondo quanto trapela dalle autorità americane il rientro in Italia di Chico Forti dovrebbe avvenire entro due mesi è il tempo necessario alla burocrazia d'oltreoceano per autorizzare il volo per Roma dopo che la Corte d'Appello di Trento avrà riconosciuto la sentenza degli Stati Uniti per metterla poi in esecuzione fuori dal paese per 24 anni per una condanna all'ergastolo per un omicidio di cui Forti si è sempre dichiarato innocente mi avete salvato la vita le sue prime parole di ringraziamento è la madre eravamo caduti nello sprofondo ma la fiducia non ci è mai mancata è tutto il mondo politico ad unirsi alla soddisfazione per il rientro di Forti in Italia espressa già ieri dalla Premier nel dare la notizia da Washington per il governo parla il ministro della giustizia Nordio che dice il rientro in Italia di Chico Forti è un importante d'atteso traguardo lavoreremo perché possa quanto prima tornare nel nostro paese a scontare la pena anche Matteo Salvini esprime orgoglio per la promessa mantenuta e aggiunge non entro nel merito della vicenda giudiziaria ora riabbraccerà la madre che possa tornare tra la sua gente Tony condivisa tutti i gruppi di opposizione Giuseppe Conte per i 5 Stelle commenta è un'ottima notizia il rientro di Chico Forti dopo un lungo e travagliato iter complimenti ai nostri diplomatici al governo anche per il verde Bonelli si tratta di una buona notizia il trasferimento in Italia di Forti riapre anche il caso dei 2.500 altri italiani detenuti in carcere di paesi stranieri verso i quali ora si invoca più attenzione ad iniziare da Roberta Salis in prigione in Ungheria il padre dice sono molto contento per Forti per quanto riguarda Ilaria la speranza puntualizza aumenterà quando ci saranno segnali chiari e azioni concrete interviene anche la madre di Filippo Mosca un 29enne siciliano detenuto da 9 mesi in Romania per una condanna a 8 anni e 6 mesi per droga ritengo dice la madre di Filippo che il nostro paese debba pensare anche ai tanti altri connazionali detenuti in condizioni difficili come sta capitando a mio figlio adesso dobbiamo raccontarvi una storia piuttosto inquietante che lega la politica ma non solo anche a questione giudiziaria perché dalle carte di Perugia un'inchiesta che è in corso sarebbero emersi degli elementi di un possibile dossieraggio da parte di un luogotenente della guardia di finanza che era distanza alla direzione nazionale antimafia appunto nei confronti di molti politici che sono attualmente al governo ma non solo ci sono anche personaggi dello sport e dello spettacolo un finanziere in servizio nella procura nazionale antimafia a cui vengono contestati 800 accessi abusivi alla banca dati relativa alle cosiddette SOS segnalazioni di operazioni fiscali sospette l'inchiesta della procura di Perugia guidata dal procuratore Raffaele Cantone ruota intorno a questo caposaldo ma nell'inchiesta risultano indagati anche alcuni giornalisti e il sostituto procuratore della direzione nazionale antimafia Antonio Laudati a cui sarebbero contestati quattro episodi sui quali però il magistrato che sarà sentito la prossima settimana in procura si dichiara assolutamente straneo in tutto sono una quindicina le persone a cui a vario titolo si contestano i reati di accesso abusivo a sistemi informatici e banche dati falso e divulgazione di informazioni riservate non un vero e proprio dossieraggio però hanno subito precisato i magistrati di Perugia che non hanno fino a questo momento accertato la realizzazione di fascicoli ad personam ma comunque è un'attività ritenuta anomala che Pasquale Striano tenente della Guardia di Finanza ha cercato di giustificare definendola una tecnica di investigazione a strascico attuata solo per motivi di indagine una spiegazione che non convince gli investigatori anche perché i nomi che emergono dall'inchiesta e su cui sarebbe stata interrogata la banca dati sono i più vari e appartengono al mondo delle istituzioni della politica dello spettacolo e dello sport la lista è davvero lunga ci sono i ministri Corsetto da un suo esposto è partita l'indagine Pichetto Fratin Urso e Calderone i sottosegretari del Mastro e Fazzolari c'è la parlamentare di Forza Italia e compagna di Silvio Berlusconi Marta Fascina ci sono gli ex premier Matteo Renzi e Giuseppe Conte e la sua compagna poi ci sono Fedes Cristiano Ronaldo quando in Italia giocava con la Juventus e l'allenatore dei Bianconeri Massimiliano Allegri c'è Andrea Agnelli il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina perfino Francesco Totti le indagini in corso dovranno chiarire per quali ragioni il tenente delle Fiamme Gialle avrebbe interrogato l'archivio SOS su questi nomi la ricerca astrascico di informazioni riservate tra l'altro non avrebbe portato ad alcuna scoperta clamorosa nei confronti dei personaggi noti e non risulta che il tenente abbia ricevuto denaro per divulgare quelle informazioni vi devo dare un aggiornamento per quanto riguarda l'altra guerra oltre a quella in Ucraina la notte scorsa droni russi hanno colpito nuovamente la città di Odessa le vittime sarebbero sette tra loro ci sono anche una donna e suo figlio oggi nel paese precisamente a Kharkiv vicino al confine russo è andato in visita il premier olandese Rutte che ha firmato con Zelensky un accordo decennale di sicurezza una delle mosse di Kiev per fronteggiare il disimpegno americano visto che gli aiuti all'Ucraina sono ancora bloccati come si diceva in apertura di giornale al congresso di Washington da Roma intanto dove si trova per il congresso del partito socialista europeo il cancelliere Scholz ha ribadito come sentivamo prima il suo no alle truppe ancora notizia questa volta invece di cronaca interna torniamo in Italia a Niziamoferrato siamo in provincia di Asti una ragazza di 19 anni ha confessato di aver ucciso il padre di 50 anni al termine di una lite sono intervenuta addetto per difendere mia madre papà la stava picchiando stava picchiando anche me non volevo ucciderlo mi sono solo difesa lo avrebbe colpito la schiena con un coltello raccontato naturalmente del clima di tensione che si viveva a casa con maltrattamenti e violenze da parte del genitore la famiglia madre padre e tre fratelli di origini cecene viveva in Italia da 4 anni lunedì ci sarà l'udienza di convalida del fermo in questo momento la ragazza si trova in una comunità protetta adesso siamo anche se è difficile il passaggio dopo questa notizia alle notizie sportive a quelle di Formula 1 c'è stato il primo gran premio della nuova stagione sul podio Verstappen Perez davanti al ferrarista Sainz la prima gara 2024 può sembrare una copia conforme di quanto visto lo scorso anno sullo stesso tracciato ma alle spalle della coppia Red Bull composta da Verstappen e Perez questa volta c'è una Ferrari quella di Carlo Sainz il dominio delle monoposto anglo-austriache va detto è stato assoluto per il pilota olandese vittoria pole position giro più veloce e leadership in tutti e 57 i giri del gran premio alle spalle della coppia Red Bull le emozioni non sono mancate già nelle prime tornate si è riproposta la lotta in famiglia fra i due ferraristi con Leclerc che ha dovuto faticare in fase di frenata con il monegasco costretto a cedere posizioni il ruolo di inseguitore del Red Bull è passato all'inglese della Mercedes George Russell terzo sino a metà gara una volta completato il primo cambio gomme si è assistito alla rimonta delle due rosse di Maranello la nuova SF24 con pneumatici a mescola dura si è rivelata più competitiva delle sue rivali e è chiusa con distacchi molto più contenuti rispetto a quanto visto nel finale di stagione 2023 in particolare Sainz è stato protagonista di una prestazione grintosa i sorpassi su Leclerc e Russell gli sono valsi il titolo di pilota del giorno dalla platea televisiva globale ma rimane la realtà di un gran premio che non è mai stato in bilico per una Red Bull che pure ha vissuto a settimane complicate a causa delle polemiche legate alla responsabile del team Christian Horner ancora sport perché dobbiamo parlare dello splendido argento del lunghista azzurro Mattia Furlani l'atleta che un mese fa ve lo ricorderete aveva stabilito il record mondiale under 20 è salito oggi sul secondo gradino del podio dei mondiali indoor di Glasgow con la misura di 8 e 22 che è la stessa misura del vincitore l'oro infatti è andato al greco Tentoglu che ha ottenuto la stessa misura dell'azzurro soltanto perché ha prevalso il suo secondo miglior salto l'argento del 19enne Furlani è il secondo all'oro italiano della manifestazione dopo il bronzo conquistato ieri sera dal pesista fiorentino Leonardo Fabri dopo di noi sono ospiti questa sera da In Altre Parole Luca Telese Ilaria Gasparri Gabriella Pession Pession Alfa Vecchioni scusate duetto musicale Alfa Vecchioni Tony Servillo e Federico Rampini ci fermiamo qualche istante e poi torniamo per gli aggiornamenti Eccoci nuovo Telegrafica vi dico soltanto che Trump ha vinto a valanga i caucus del partito repubblicano in Missouri conquistando altri delegati necessari per la nomination repubblicana contro Nikki Haley questo era davvero l'ultimo aggiornamento linea Massimo Gramellini e al suo in altre parole grazie per l'attenzione buona serata grazie per l'attenzione